Sindaco De Luca, ormai è terminato l'anno 2015, un mini bilancio, quali sono le cose più importanti da ricordare? Un mini bilancio da fare credo che è sotto gli occhi di tutti, se partiamo dalla differenziata alle opere che sono in corso, però credo che il totale, la linea, la tireremo il 31 gennaio perché adesso ci sono ancora opere che sono in corso, altre che sono state programmate nel 2015 ma saranno realizzate nei primissimi mesi del 2016, quindi è un bilancio sicuramente ultra positivo. E che cosa si augura per sé e per i suoi concittadini per il nuovo anno? Intanto io auguro innanzitutto la salute perché è quella che non deve mai mancare a nessun cittadino del mondo e poi auguro sicuramente prosperità e segnità, il 2015 così come gli anni precedenti sicuramente non sono stati brillanti sotto l'aspetto lavorativo, però sono fiducioso anche perché amo dire che non può piovere sempre, quindi auguriamoci che il 2016 sia un anno spumeggiante per tutti quanti noi. Lei ha anche avviato una campagna di sensibilizzazione contro i botti di fine anno che risultano oltre a modo pericoloso, ogni anno contiamo i feriti, penso in maniera permanente. Sì, intanto io devo dire che rispetto ai sindaci che hanno fatto l'ordinanza, ma la ritengo un po' una presa in giro perché intanto l'ordinanza sindacale è uno strumento estremo e l'infrazione viene fatta poi il 31 dicembre a mezzanotte. Quindi per controllare eventualmente quelli che infrangono la legge o l'ordinanza, quelli che non sono rispettosi dell'ordinanza stessa, noi dovremmo avere 5.000 poliziotti i quali la notte del 31 dicembre a mezzanotte dovrebbero andare a controllare quelli che sparano i fuochi. Allora piuttosto che dirci questo è opportuno fare un appello al buonsenso dei cittadini ed è questo che io faccio, mi appello al buonsenso dei cittadini di quale anno per non far sparare quei fuochi d'artificio ed in particolare quei fuochi d'artificio che sono pericolosi. Questo lo dico per due motivi, chiedo scusa ma in premissa per la salvaguarda della salute perché ogni anno noi contiamo appunto centinaia se non migliaia di feriti tra Napoli e provincia e poi anche per rispetto dei nostri animali, anche io ho due cani e so che cosa provano perché lo vedo quando sparano i fuochi d'artificio. Per cui ragazzi siamo seri, i fuochi d'artificio non servono, il Capodanno si può sparare anche con una bottiglia di champagne.